Liam Payne, ex cantante della celebre band britannica One Direction, è morto a Buenos Aires precipitando dal terzo piano dell'hotel Casa Sur Palermo, in cui soggiornava. Il tragico incidente ha coinvolto il 31enne e poco prima della caduta sembrerebbe che avesse avuto una crisi di nervi. Nella chiamata d'emergenza al 911, riportata dal quotidiano spagnolo Clarina. Si parla infatti di un ospite sotto l'effetto di droghe che sta distruggendo la sua stanza. Il sito ha anche pubblicato alcune foto che ritraggono la camera devastata, con resti di sostanze stupefacenti e un televisore con il vetro in frantumi. L'artista avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma aveva cancellato il concerto. Per un'infezione ai reni di cui soffriva fin da bambino a causa di complicazioni dovute alla nascita prematura. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato una scena di caos, con oggetti sparsi ovunque. Tra cui una scrivania coperta da resti di una candela, un accendino, una scatola di saponetta e una polvere bianca, presumibilmente cocaina. Un'altra immagine mostra la parte superiore di una lattina bruciata e nel bagno sono stati rinvenuti altri resti di candele e fogli di alluminio. Prima dell'incidente, Payne aveva pubblicato alcuni contenuti su Snapchat, dove mostrava la sua colazione e annunciava che avrebbe partecipato a una partita di polo. In uno dei video appare disteso e tranquillo, lasciando intuire un'atmosfera serena prima della tragedia. Aveva pianificato una tournée in Sud America, ma l'aveva annullata di recente a causa di gravi problemi di salute legati ai reni. Nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton, nel Regno Unito, aveva raggiunto la fama internazionale. Come membro della boy band One Direction, attiva tra il 2010 e il 2016. Dopo lo scioglimento del gruppo, aveva intrapreso una carriera solista. Firmando contratti con Capital Records e Republic Records negli Stati Uniti. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.